Il valore della sensualità non supera neppure di un capello, quello dello spirito, e viceversa. Tutto è una cosa sola, tutto è ugualmente buono. Abbracciare una donna o scrivere una poesia non fa differenza. Perché ci sia l'essenziale, l'amore, la passione, il rapimento. Essere un monaco sul monte Athos o un viver a Parigi è la medesima cosa.